Oggi abbiamo un altro unboxing, come nel video. Questo è arrivato da Amazon, Mommy Long Legs, il peluche sua, però ha una caratteristica molto speciale come peluche, perché ha tipo una specie di effetto ferretto che lo fa tipo muovere flessibile come sta roba, però che rimane in una posizione, tipo così, lo metti così, lo lascio con le mani e rimane in una posizione. E non vedevo l'ora, ero eccitata di sto peluche che arrivasse, perché ci ha piegato un mese, perché tutti arrivano dalla cina. E adesso armiamoci di forbici e apriamolo. Ah, non servono manco. Intanto puoi aprirle con le mani. Ecco, la vedo, vedo il bel ragnetto. Eccola, un po' chiusa. Ma vedo il bel ragnetto. Guardate il bel ragnetto. Guardate che bel ragnetto. Aspettate. Sì, qua bisogna usare le forbici, perché è impossibile l'aprire. Eccola, guardate. Adio, che super carino. Volemi chi bisogna essere. Come? Non ha l'effetto ferro. Abbovita. Oddio! Cos'è successo? Ho preso una botta. Ho preso una botta sta mamma e l'onlex. Mi sa che si è pigliata una padellata in faccia. Non sta molto bene. Lo mettiamo così. Ciao! Ciao, ragazzi! Allora, ci sta, è carina. Carina, ci sta. Ci sta molto come peluche. Mi piace. Mi piace. No, alla fine, questo non ce l'ho detto. Però bella. La fa la spaccata. Mi piace. Allora, le scarpe. Allora, le braccia lunghe ce le ha, come dice il nome. Allora, è molto flessibile, come peluche. E allora, concludiamo il video con questa bellissima mamma e l'onlex. E' super carina. E' super carina. Ok, il suciuffo non sta tanto su. Troverò un modo per... Troverò un motivo, un modo per... di... di questi video. E se volete anche abbannatevi. Attenvate la cappellellina, volevo dire. E ciao!